pochi giorni fa c'è stato finalmente il primo etf spot della storia di bitcoin un cambio epocale per quanto riguarda la nostra criptovaluta molti si aspettavano dei rialzi nel brevissimo periodo dei pump importanti che potevano andare anche sopra i 55k beh così non è stato dopo aver avuto una pesca di liquidità proprio il giorno del listing che ci ha portato a 49 mila dollari da quel momento abbiamo ritracciato e siamo arrivati anche a un meno 17 per cento in questo momento stiamo a poco meno di 41 mila dollari ma quindi che questo che cosa vuol dire che l'etf spot di bitcoin è un fake che l'etf spot di bitcoin non vale niente e che non serve a niente per quanto riguarda la nostra criptovaluta beh prima di rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare quello che è successo sul grafico a candele giornaliere per quanto riguarda il primo listing della storia per quanto riguarda il nostro gold quindi il primo etf spot per quanto riguarda il gold per vedere se veramente si è comportato meglio di come si sta comportando bitcoin se veramente è andato to the moon come molti dicono senza però aver guardato lo storico del grafico e possiamo capire veramente quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane al nostro amato bitcoin e anche ai prossimi mesi vi spoilerò che a fine video una volta analizzato il gold faremo anche un po di analisi tecnica per quanto riguarda il nostro bitcoin per capire a che punto siamo se questo scarico può avere un termine in questo momento o se invece bisogna continuare a ritracciare per andare a toccare dei punti chiave prima di iniziare comunque ragazzi vi volevo ringraziare siamo finalmente arrivati a quota 300 iscritti un numero tondo veramente grazie mille di tutto il supporto che mi state dando della fiducia che mi date e di tutti i like per i video che io vi sto portando questo mi aiuta tantissimo anche perché questo è un canale no profit è un canale che si basa soltanto sulla passione e sul condividere le cose con voi pertanto se vi piacciono le cose che vi sto condividendo mi raccomando schiacciate il bottone like iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sia per quanto riguarda l'analisi tecnica sul bitcoin e su tutte le altre cripto valute più importanti asset anche analisi ciclica e analisi on chain insomma tutto quello che vi serve per rimanere aggiornati senza il minimo sforzo basta soltanto guardare il mio video benissimo iniziamo subito a guardare il nostro grafico del gold quando è stato listato quindi il primo etf spot del gold beh il primo etf spot è stato listato il 18 novembre del 2004 quindi parliamo di 20 anni fa è stato listato a new york e veniva messo in quotazione il primo etf che si chiama con il simbolo gld il cui andamento replicava la quotazione dell'oro nasceva da quel momento la possibilità di investire o di speculare sul prezzo dell'oro semplicemente comprando o vendendo un'azione quotata e fu un successo leggete questa frase fu un successo il listing vediamo subito sul grafico che cosa è successo questo è il grafico dell'oro e time frame giornaliero abbiamo questo qui la linea verticale arancione che è il giorno del listing per quanto riguarda il nostro etf dell'oro e noi avevamo un prezzo che si aggirava intorno ai 444 dollari il primo giorno in cui è stato listato il nostro oro abbiamo avuto una candela rossa il primo giorno di listing candela rossa dopodiché che cosa è successo abbiamo fatto una serie di candele verdi consecutive sino ad arrivare a un nostro top avuto all'incirca una decina di giorni dopo e da lì abbiamo avuto il nostro ritracciamento guardate che ritracciamenti importanti che abbiamo avuto successivamente queste sono candele giornaliere parliamo dell'oro quindi ovviamente l'oro si muove nettamente meno di quanto si muove il bitcoin quindi un 1 per cento sull'oro non dico che equivale a un 6 7 per cento sul bitcoin ma quasi dal nostro top avuto esattamente misuriamolo 8 giorni dopo il listing quindi 8 giorni dopo c'è stato il nostro top abbiamo fatto dal top dopo poco meno di una settimana quindi parliamo di anzi una settimana precisa abbiamo fatto un meno 5 per cento dopo una leggera risalita dopo un ulteriore dump e siamo andati nettamente al di sotto del listing sull'etf quindi listing etf approvato sul gold dump successivamente fase di respiro bear flag dump fase di respiro dump dopodiché ci siamo chiusi all'interno di un triangolo eccolo qui è solo dopo aver sfruttato questo triangolo che sapete quanto è durato questo triangolo è durato 36 settimane quindi è un periodo lunghissimo parliamo di 165 giorni in cui il prezzo ha continuato a comprimersi verso il basso e non siamo più stati al sopra il listing del dell'etf spot guardate ci abbiamo messo soltanto la testa tre volte in 36 settimane tre volte soltanto dopodiché siamo andati soltanto a fare una grande accumulo per quanto riguarda questa fase che è durata ben 36 settimane da lì abbiamo avuto la nostra rottura grazie anche alla media mobile dei 200 giorni che io vi ricordo essere una media importantissima infatti guardate anche qui abbiamo avuto un dump e ci ha portato esattamente la media mobile dei 200 giorni e questo ci ha dato il grande respiro una volta superato questo triangolo che abbiamo fatto l'abbiamo utilizzato come supporto e solo dopo 36 settimane siamo riusciti ad avere la nostra fase rialzista quindi quelli che dicono che l'etf spot è stato subito un successo evidentemente non sono abbastanza informati perché l'etf spot una volta attivato ha creato una lateralizzazione di ben 36 settimane prima di poter iniziare con la sua fase rialzista noi ricordiamoci che ad aprile abbiamo anche il nostro halving e poi ricordiamoci che quando il gold è stato listato guardate eravamo su ipercomprato esattamente su candela giornaliera esattamente come in questo momento ci trovavamo anzi con bitcoin prima dei grandi ritracciamenti che ci sono stati pertanto poi cosa ha fatto loro dopo 36 settimane abbiamo incominciato ad avere la nostra risalita aggressiva quindi una volta rotto questo triangolo che è durato come vedete tantissimo abbiamo incominciato ad avere questa forte risalita guardate che cosa impressionante quindi questo è il vero effetto che può fare un etf spot non subito il giorno dopo o dopo una settimana o dopo un mese ragazzi quindi preparatevi e aspettate eventualmente anche una potenziale lateralizzazione per diversi mesi per quanto riguarda il bitcoin che potrebbe essere questa fase di accumulo prima poi di un'esplosione che potrebbe durare altrettanti mesi se non di più in questo caso con il gold abbiamo fatto questo pump che è durato per anni al di là dei suoi ritracciamenti normali il bitcoin il gold ha fatto spostiamoci sulle candele mensili così vi faccio vedere anche un'altra cosa sempre sul gold che è molto interessante facciamo settimanali eccoci qua questo lo possiamo togliere eccoci qua guardate dove ci troviamo quindi in questa fase qui dopo aver avuto il nostro bottom in questa fase qui già si sentiva aria di etf esattamente come è successo poi anche con il bitcoin perché già si era provato a se ne era parlato quindi ci stava il rumor dell'etf dopodiché guardate che pump pazzesco che abbiamo avuto inarrestabile prima di avere il nostro ritracciamento col gold abbiamo fatto ben il 67% che fidatevi è tantissimo e dopodiché abbiamo avuto una risalita inarrestabile arrivata sino ai massimi avuti nel 2011 quindi parliamo dal 2004 al 2011 di sole salite poi dopo abbiamo avuto le nostre lateralizzazioni e sinché in questo momento abbiamo raggiunto di nuovo i massimi storici in questo momento siamo ai nostri massimi storici io sul grafico dell'etf sul grafico dell'oro ho voluto segnare anche l'etf di bitcoin perché voglio vedere da questo momento in poi come si comporterà l'oro e se dovesse fare come ha fatto l'etf di grayscale che ha dovuto cedere il passo ha un etf spot come quello di blackrock e di tutti gli altri e quindi sta iniziando a dampare i suoi bitcoin chissà se anche l'oro man mano dovrà cedere il passo alla nuova criptovaluta la nuova riserva di valore a mio avviso che è quella di bitcoin ovviamente quelli che non vi dico non sono né consigli finanziari né di trading ma sono semplicemente le mie opinioni quindi vediamo un attimo in questo momento il bitcoin l'oro si trova a contatto di questa fortissima resistenza verde oltre alla resistenza orizzontale blu che è quella dei suoi massimi ricordiamo che il suo touch lo abbiamo avuto guardate questa resistenza quanti contatti ha avuto in queste zone qui ricordiamo che la sua base che è questa qui è il supporto nuovamente qui in questo momento però io penso che il loro possa lateralizzare in modo eventualmente discendente la sua base ovviamente in questo momento si trova in zona 600 dollari non penso proprio che la toccherà mai in questo momento e mai nella storia però quello che ci possiamo aspettare intanto è che questa trendline possa continuare a fargli da resistenza eventualmente lui voglia continuare a salire di prezzo e questo può avvenire tranquillamente ma quello che sappiamo che su questa trendline ci sono un sacco di short e un sacco di take profit per chi è entrato più in basso quindi quello che si potrebbe fare è continuare a testarla per poi dampare testarle e dampare testarle e dampare sinché non ci sarà un vero e proprio switch di capitali che porteranno i capitali dall'oro a chissà chi se bitcoin o qualcun altro quindi questo è quello che è veramente successo per quanto riguarda l'etf dell'oro e voi lo sapevate o pensavate che era andato to the moon direttamente dal giorno dopo beh come vedete così non è stato 36 settimane di attesa speriamo che al bitcoin ne servano di meno benissimo ora iniziamo invece a guardare il grafico del bitcoin guardiamolo subito che è molto interessante allora innanzitutto pare che stia cercando di recuperare in questo momento sta provando a trasformare la sua candela giornaliera in verde guardiamo che siamo sull'RSI sull'iper venduto siamo proprio a contatto ma una cosa interessante che vi voglio far notare per quanto riguarda la nostra RSI e fatemela zoomare un attimo così si vede meglio è che stiamo facendo dei minimi crescenti a seguito di minimi decrescenti per quanto riguarda il prezzo quindi prezzo con minimi sempre più bassi RSI con minimi sempre più alti questo è un piccolo segnale rialzista è una piccola divergenza rialzista nascosta che non tutti riescono a intravedere ma che in questo momento il grafico ci sta mettendo davanti questo cosa vuol dire? che quindi da ora in poi to the moon, lambo e chi più ne metta? no quello che potremmo fare in questo momento dato che sul 4 ore stiamo molto scarichi che potremmo andare nuovamente eventualmente a ritestare prima di dover fare un ulteriore dump perché quello che io mi aspetto è che entro gennaio perché poi da febbraio io mi aspetto comunque una bella candela verde entro gennaio andremo a testare i 40.000 dollari e la base di questo canale rialzista una volta testata questa base ed aver accumulato abbastanza liquidità fatta una abbastanza pesca di liquidità a quel punto il bitcoin potrebbe essere pronto eventualmente per una nuova fase rialzista cosa che in questo momento non mi aspetto vi faccio presente che abbiamo rotto anche il minimo di questa zona qui quindi in questo momento il bitcoin ha iniziato un trend ribassista quindi abbiamo fatto un minimo più basso rispetto a quello precedente da questa zona qui bisogna quindi stare attenti e stare cauti stiamo in una zona normalissima di distribuzione normalissima vi ripeto tra l'altro eravamo rimasti non ho fatto in tempo a postarvelo però il bitcoin si era su time frame orario si era chiuso all'interno di questo triangolo siamo andati in lateralità abbiamo toccato il supporto più volte qui lo abbiamo rotto il triangolo è sfociato in un mega dump guardate che continua da diverse ore e in questo momento questo dump è del 5% quindi si fermerà in questo momento potrebbe essere dovuto guardate l'RSI sull'orario pure era scarichissima potrebbe essere che in questo momento il bitcoin si riprenda e provi ad andare a ritestare nuovamente questa trend line verde che potremmo ritestare intorno ai 42 mila dollari anche perché lo scarico è stato abbastanza importante è lo scarico finale secondo me quello che ci farà risalire ci farà andare to the moon tutto potrebbe essere ma come dicevo io mi aspetto comunque un touch su questa zona qui se noi ci spostiamo invece sul giornaliero possiamo notare che lo 0.38 sta provando a romperlo quindi con la candela giornaliera dobbiamo provare a chiudere la nostra candela giornaliera intorno ai 41 mila dollari se riusciamo a chiudere sopra i 41 mila dollari potrebbe essere abbastanza bullish da avere una bella ripresa per la giornata di domani ma dobbiamo chiudere a 40 mila dollari anche per quanto riguarda il giornaliero io vedo comunque la possibilità di un rimbalzo però non vi aspettate che riprenda la sua fase rialzista che provi a fare nuovamente i suoi massimi questo non è quello che io mi aspetto abbiamo fatto 4 mensilità consecutive verdi quindi 4 candele verdi consecutive il bitcoin non ne ha mai fatte 6 quindi sarebbe bene che questo gennaio chiudesse il rosso in modo da resettare questa statistica altrimenti ci potrebbe mettere in difficoltà nei mesi successivi e questo non serve anzi un bello scarico per quanto riguarda l'RSI fa soltanto bene al nostro bitcoin se questo video vi è piaciuto vi è sembrato interessante potrebbe darvi degli spunti di riflessione per quanto riguarda soprattutto l'ETF del gold mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nei prossimi giorni tra l'altro per chi non l'avesse visto io ho iniziato a fare anche delle live quindi mi farebbe piacere soprattutto la sera intorno alle 10 quindi intorno a quest'ora partire con delle live e chiacchierare con voi e magari discutere e vedere sui grafici qualche criptovaluta magari che a voi può interessare quindi vi aspetto anche nelle live mi raccomando ci vediamo presto un abbraccio a tutti quanti come sempre mi sono divertito tantissimo a fare questo video ed è stato un piacere ciao ragazzi alla prossima ciao ciao ciao